Cari amici, finalmente la verità sta venendo a galla, almeno all'estero e più precisamente in Germania, dove un'inchiesta del quotidiano di Ewelt ha fatto esplodere un vero e proprio scandalo. Il giornale infatti è venuto in possesso della corrispondenza avvenuta durante la prima ondata, ovvero a marzo 2020, tra il Ministero dell'Interno e l'Istituto Robert Koch, che pensate è l'istituto che è responsabile della prevenzione e del controllo delle malattie infettive di tutta la Germania. Parliamo di uno degli enti più prestigiosi al mondo, basta andare sul sito per vedere le attività anche internazionali e si vede che questo istituto collabora anche con l'OMS. Più di 200 pagine di email, dalle quali emerge chiaramente che il Ministero dell'Interno ha incaricato i ricercatori dell'Istituto Robert Koch, ma anche di altre istituzioni scientifiche tedesche, di creare, di produrre un modello di calcolo che giustificasse le durissime misure di lockdown prese poi dal governo tedesco. In uno scambio di email, il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Marcus Kerber, chiede ai ricercatori contattati di sviluppare un modello sulla base del quale pianificare misure preventive e repressive. Gli scienziati hanno chinato il capo ed hanno eseguito gli ordini e in soli quattro giorni hanno prodotto un documento che però prospettava lo scenario peggiore, uno scenario apocalittico. Infatti secondo questo documento più di un milione di tedeschi sarebbero potuti morire se non si fosse intervenuti con delle restrizioni alla vita sociale. Questa analisi, questo documento doveva restare segreto anche se dopo qualche giorno è stato divulgato da diversi media nazionali tedeschi e peccato solo che si trattasse di uno scenario e non di un'analisi scientifica. In poche parole medici e ricercatori hanno piegato la loro indipendenza ai voleri, alla volontà del governo sostenendo che l'attesi richiesta dagli organi politici avesse delle basi scientifiche che in realtà non aveva. Insomma siamo di fronte a una colossale, a una gigantesca fake news di regime e ci sono dei particolari veramente raccapriccianti e tra questi uno in particolare che devo dire davvero raccapricciante che sono emersi i consigli, ovvero le azioni da mettere in atto per ottenere lo shock desiderato nella popolazione. Bisogna lasciare che le immagini emergano nella mente delle persone. Molte persone gravemente ammalate vengono portate in ospedale dai loro parenti, ma vengono respinte e muoiono in agonia a casa senza fiato. Questo è solo un esempio di quanto è stato messo in atto per creare un forte shock e di conseguenza terrorizzare la popolazione al fine di farle accettare misure oltremodo repressive e oltretutto senza alcun fondamento scientifico messe in atto dal governo. La reazione del vicepresidente del Bundestag del Parlamento tedesco è stata veramente forte e ha infatti parlato di mezzi totalitari incentrati nel infondere terrore nella popolazione. Il ministro federale dell'interno, Ors Zeeufer, ha fatto pressioni sui ricercatori nella primavera del 2020 per giustificare le dure misure contro il coronavirus. I mezzi che devono infondere paura nella propria popolazione fanno parte degli strumenti degli stati autoritari. L'impressione è che il governo federale considererà le strade democratiche ordinarie non più sufficienti per far valere la propria politica sul coronavirus e solleva anche dei dubbi sulla serietà degli scienziati coinvolti, tra l'altro del RKI, cioè l'istituto Robert Koch, che si sono prestati per questi scopi. È ora che questo governo venga sostituito. Chiunque voglia infondere paura nella popolazione per poter applicare meglio delle misure politiche sta mettendo l'ascia sul nostro ordine democratico di base. Ovviamente non si tratta più di spiegare le decisioni politiche ai cittadini maturi basandosi su prove e in modo fattuale, ma piuttosto di respingere queste decisioni in modo repressivo. Il portavoce per la politica interna del gruppo parlamentare FDP ha dichiarato. Se la politica e la scienza fossero in costante contatto sarebbe positivo, tuttavia i ruoli non devono essere invertiti. La scienza fornisce la conoscenza e la politica prende la decisione. Se si ha l'impressione che le scoperte scientifiche siano ordinate dai politici per giustificare le proprie azioni, ciò danneggia la reputazione della scienza indipendente e il controllo delle pandemie basato sui fatti. Mentre il presidente del gruppo parlamentare di sinistra ha dichiarato. Considero l'approccio del ministero dell'interno un autogol. La scienza deve consigliare i politici, offrire orientamento e dare consigli indipendenti in tempi di crisi. Quando la scienza rinuncia all'indipendenza la credibilità ne soffre, ma la fiducia e la credibilità sono fondamentali in una crisi per rafforzare l'accettazione delle misure. Cari amici, anche qui in Italia è venuto fuori un documento che doveva restare segreto che prospettava uno scenario apocalittico e parliamo dell'analisi di un centro di ricerca per conto dell'istituto superiore di sanità che prospettava che ci sarebbero potuti essere centinaia di migliaia di morti tra gli italiani per colpa del coronavirus se non si fosse intervenuti anche qui per arginare l'epidemia, quindi se non si fosse intervenuti con delle restrizioni alla vita sociale. E guarda caso il governo si è basato proprio su queste analisi per poi imporre le misure restrittive, altamente restrittive delle libertà personali e fortemente repressive. E anche se qui in Italia al momento non ci sono prove che ricercatori, medici e scienziati si siano sottomessi ai diktat del governo, beh io personalmente non posso fare a meno di notare una certa similitudine con quanto è accaduto in Germania. E voi cosa ne pensate? Un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.